In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha condiviso le sue impressioni sul piazzamento di Lautaro Martinez nella classifica del pallone d'oro, dove il capitano dell'Inter si è classificato settimo. Materazzi, icona eterna per i tifosi nerazzurri, ha colto l'occasione per parlare dell'importanza di Lautaro per la squadra e interrogarsi sui criteri utilizzati nella scelta del piazzamento finale del giocatore. Alla domanda su dove collocherebbe l'argentino, l'ex difensore è stato diretto e ha precisato che per lui Lautaro dovrebbe essere tra i primi cinque. Ha sottolineato che, mentre Rodri e Carvall, che erano meglio piazzati, hanno vinto titoli importanti con le loro squadre, anche Lautaro ha una storia recente di grandi vittorie, sia con l'Inter che con la nazionale argentina. Per Materazzi Lautaro ha ragione a sentirsi deluso del suo posto, che sta accumulando titoli e buone prestazioni. Ha sottolineato che, a volte, i criteri seguiti da chi vota il pallone d'oro possono essere bizzarri e che il vero valore di un giocatore sta nei titoli che vince e nelle coppe che alza con la sua squadra, e che Lautaro deve avanzare. A suo avviso, i trofei che Lautaro ha già vinto, come la Coppa del Mondo e due Coppa America, l'ultima delle quali come capocannoniere del torneo, sono ciò che definisce davvero il successo di un giocatore. Ha detto che parla con l'esperienza di uno che ha vinto anche il mondiale del 2006 e che all'epoca non era nemmeno tra i primi cinquanta nella contesa per il pallone d'oro, nonostante avesse una carriera piena di successi con la maglia dell'Inter. Materazzi ha inoltre sottolineato che, quando si scelgono i vincitori del pallone d'oro, dovrebbe esserci una linea chiara tra ciò che viene valutato, sia che si tratti della prestazione individuale assoluta o del contesto dei titoli vinti dal giocatore nel corso della stagione. Ha chiarito che la mancanza di linearità nelle scelte genera sempre polemiche. L'ex giocatore ha portato l'esempio di Sneijder, che nel 2010 aveva vinto la tripla corona con l'Inter e aveva raggiunto la finale del mondiale con l'Olanda. Si è chiesto. Se l'Olanda avesse battuto la Spagna in quella partita, Sneijder sarebbe stato escluso dal podio del pallone d'oro? La storia, secondo Materazzi, potrebbe essere diversa. Ma il fatto è che, nonostante tutta questa prestazione, Sneijder quell'anno arrivò solo quarto. Materazzi ha commentato anche le parole di Messi su Lautaro. Per lui gli elogi di Messi, considerato uno dei migliori della storia, valgono più di qualsiasi voto della giuria del pallone d'oro. Secondo Materazzi queste parole dovrebbero servire da motivazione per Lautaro, perché portano il peso di qualcuno che conosce profondamente il calcio e che riconosce la bravura e l'impegno dell'argentino. Materazzi, inoltre, ha tenuto ricordare che Lautaro gode dell'affetto di tutta la tifoseria interista, che vede in lui un vero e proprio simbolo della squadra e come un capitano che con corsa e bravura guida la squadra in campo. Per lui, il riconoscimento dei tifosi e l'ammirazione per un giocatore come Messi sono ragioni per Lautaro per rimanere motivato e alla ricerca di nuovi traguardi. Il capocannoniere argentino è stato fondamentale per l'Inter per conquistare la seconda stella dello scudetto, portando la squadra al titolo con il suo ruolo da cannoniere in Serie A. Questo riconoscimento, sia da parte dei tifosi che di altri grandi giocatori, non fa che aumentare l'impegno di Lautaro con l'Inter, essere un vero leader ed esempio per la squadra. E per te, tifoso, cosa pensi della posizione di Lautaro nella contesa per il pallone d'oro? Lascia il tuo commento.